è arrivata anche quest'anno che cosa maffo? la peste del testemato, la vostra peste da quando? dal 5 al 17 febbraio ma che prodotti? quali? su prodotti contrassegnati con un cartellino rosa prodotti particolari e i prezzi? i prezzi da magia si maffo che bello non vedo l'ora anch'io perché rimarrete incantati